L'anurese sembra decisa a non farsi prendere alla fretta nel costruire l'organico in vista della prossima stagione agonistica. Dopo aver chiuso con quattro giocatori provenienti dal progetto Sant'Elia, Usai, Frongia, Puddu e Sanna, la società verde-azzurra ha deciso di fare una pausa di riflessione e valutare il reale andamento del mercato sardo dei giocatori. Una situazione che da un lato vede tante squadre, anche blasonate, nell'impossibilità o quasi di sostenere i costi per l'iscrizione al campionato e portare avanti un torneo dignitoso, dall'altro l'andamento delle richieste per rimborsi spese ormai non più in linea con un sistema con l'acqua alla gola in cui le risorse sono poche e che riflette la crisi generale dell'economia sarda, ormai alla canna del gas o quasi. Anche per questo motivo il presidente verde-azzurro Michele Artedino ha deciso di prendere tempo concentrandosi su pochi obiettivi immediati magari allargando il campo d'azione per pescare anche sui mercati esteri. Una delle priorità della Nurese adesso è quella del portiere, visto il mancato accordo con Maurizio Floris. In pole position c'è sempre Davide Cappello, Nurese, che è già vestito la maglia verde-azzurra in serie C2. Per il resto la società ora pensa di rivolgersi a calciatori stranieri in questa fase, una scelta che risulta obbligata per non farsi travolgere da un aumento record dei costi che in questi anni ha determinato il fallimento di tante società costrette a ripartire da zero. La Nurese vuole fare programmi che durino nel tempo e per questo ha deciso di avviare un programma biennale per arrivare in serie D. Anche perché vincere subito spendendo cifre astronomiche è il modo migliore per trovarsi in difficoltà nel giro di poco tempo.